Si chiude un 2021 di significativa ripresa per le aziende trevigiane. L'appuntamento per gli auguri di Natale in Camera di Commercio è servito anche a fare il punto e a gettare verso il futuro uno sguardo di ottimismo. In presenza solo il presidente Mario Pozza, il segretario generale Romano Tiozzo, il prefetto Maria Rosaria Laganà e il vice sindaco Andrea De Checchi, collegati amministratori, categorie economiche, anche il vescovo Monsignor Michele Tomasi. Direi che è stato un anno positivo per la nostra provincia, abbiamo una crescita molto importante, abbiamo dei settori che veramente ci danno soddisfazione. Il settore della produzione di macchine è un settore che sta dando grande soddisfazione. Pensate, ha avuto un aumento di oltre il 14%, la provincia di Treviso asporta macchinari per 1 miliardo e 650 milioni. L'unico problema che abbiamo in questo momento purtroppo è nella restrizione dovuta al Covid. Buma dell'edilizia naturalmente, ma le richieste sono fin troppe. Direi che il settore è in sofferenza per troppa richiesta, quindi lì io lo chiamo, è stata un po' una drogatura del mercato con questo bonus del 110%. Sarebbe meglio avere meno possibilità, quindi meno 110%, magari un 80% o un 90%, però più lungo nel tempo. Le imprese edili hanno difficoltà a reperire materie prime e mano d'opera. Sarebbe meglio, dice Pozza, avere a disposizione tempi più lunghi, bene anche plastica e prosecco. C'è un po' di sofferenza ovviamente sul settore del test riabbigliamento, della sport system, ma questo è dovuto ovviamente alla situazione che l'anno scorso, con le piste chiuse non si sono praticati sport, però adesso si affronterà una stagione invernale molto importante, la neve è abbondante e quindi con le prescrizioni sicuramente ci saranno motivi di soddisfazione anche per questo settore.